eccoci qui buongiorno ben ritrovati come dicevo portate pazienza al bello della della diretta io sono Luca Boltri e sarò il moderatore della stanza a vela di oggi fra poco ci collegheremo con il nostro collega Roberto Cabrini che ci farà visionare il Balti 43 da direttamente da Monfalcone nel frattempo che arrivano gli ultimi spettatori faccio una breve presentazione anche per i clienti stranieri. Welcome to our second edition of AB Hotting Bo Show live on Zoom. In a while we will connect with Roberto Cabrini to Monfalcone to show the Balti 43. Enjoy your visit. Direi che ci siamo e a questo punto non perderei altro tempo e darei la linea a Roberto eccoci qua dovrebbe arrivare Roberto ciao Roberto buongiorno buongiorno a te eccoci qua mi vedi bene sì perfetto come stai? Buona giornata benissimo grazie abbiamo una bella giornata sembra quasi estate ho dovuto mettermi la giacca ma alla fine da maniche corte molto bene. Esatto vedo vedo un bel sole quindi sì 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 devo dire che siamo stati abbastanza fortunati parte un po' in Toscana a brutto tempo però per il resto insomma ci sta graziando. Sì sicuramente allora siamo pronti per questa visita di questa magnifica barca Evergreen? certo siamo pronti un secondo solo che vedo come girare scusatemi ecco ma figurati con riflessi del sole è un disastro. Ok allora ti vedo ancora te Roberto? Sì vedi me aspetta che ci siamo eccoci qua fantasticci bene allora ti metto in evidenza per tutti così vedono solo la barca e non me bene eccoci qua cominciamo a parlare di questa bella barca intanto è un Baltic 43 sicuramente un modello noto a tutti è una barca un modello presentato nel 1986 per la prima volta e nasce dalla mattita di Giudel Vrolick studio famosissimo. Sì. All'epoca questa questa barca mi permette mi faccio una piccola presentazione del del modello. Molto volentieri. Ecco questa barca e nasceva appunto come risultato dell'esperienza che arrivava da progetti sempre di Vrolick eh all'Admirals Cup che mettevano vittorie all'Admirals Cup e quindi ha trasferito su una barca dalla crociera come si usava a fare all'epoca queste queste esperienze. Quindi nasce una barca da crociera derivata appunto da queste linee eh vincenti in regata. Eh la barca quindi è inutile dirlo è molto performante ha una grande navigabilità una grande fa delle grande performance per l'epoca quindi è una barca che sta molto bene in mare. Sì. È una barca è una barca che per 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 intenditori e diciamo che non è la roulotte galleggiante nasce come barca prima di un'altra cosa. Esatto. Ecco finalmente cominciamo a parlare anche di barca e questa è una barca vera. E è una barca che sicuramente eh è stata commissionata da Baltic a Vrolick per sfondare un mercato dei 42 piedi che all'epoca eh voleva delle barche con molto versatili, veloci ma allo stesso tempo anche capienti. Sì. Eh che che offrivano dei buoni spazi. Infatti è stata proposta in molte era molto costa con customizzabili. Sì. Customizzabile e quindi è proposta in diversi modelli e versioni. Questa è una versione sicuramente a mio avviso più interessante con la cabina di pop armatoriale. Esatto. Eh questa sì Baltic per parlare anche due parole di Baltic Baltic all'epoca eh costruì questa barca tutta in sandwich in con carbonio e tessuto in fili continui commissionato appositamente eh unidirezionali eh commissionata direttamente per costruire questa barca. Ciò permise è di avere una costruzione in sandwich con questa tecnologia che all'epoca era all'avanguardia molto leggera quindi che ha poteva risparmiare il 40 per cento sul peso dando il 150 in più per cento di rigidità alla struttura quindi anche molto strutturalmente molto resistente molto eh molto molto sofisticata già per l'epoca da questo punto di vista. Ok. Tieni conto che all'epoca giusto per curiosità Baltic che è un cantiere noto a tutti finlandese e cioè non solo all'epoca anche adesso costruisce normalmente a meno 30. Certo. Per cui a meno 30 è la temperatura standard quindi deve stare molto attento alla al tipo di costruzione alle alle temperature che deve raggiungere per che devono essere costanti per laminare e già all'epoca aveva una questa sorta di attenzione che fa sì che si si contraddistingue poi nella qualità del prodotto. Chiaro. Già avevano la possibilità di produrre e di costruire a meno a più 20 costantemente un'attenzione alla laminazione che su altri tipi di barche su altre barche di quell'epoca non puoi avere certo. Ecco detto queste caratteristiche che sono generali riguardanti. Grazie una bellissima presentazione Roberto intanto. No ti ringrazio perché la barca lo merita guardiamo le linee che sono meravigliose le vedete e sono quelle linee eterne per cui renderanno questa barca gradevole è apprezzata nel tempo senza il timore che possa diventare obsoleta. Esatto. È un grande classico per intenditori abbiamo capito da questa premessa che parliamo di grande qualità e c'è stata un'attenzione quasi maniacale nel mantenimento dei pesi all'interno della barca quindi grande leggerezza dello scaffo rigidità per poter fare che cosa dare il grande cioè non lesinare sulla qualità degli interni e quindi avere la possibilità di arrivare nel migliore dei modi vediamo infatti di che interni parleremo e arriviamo e arriviamo a questo modello nella tattispecie. Perfetto. Allora qui parliamo di una barca del 1988. Sì. Tanto ci porti a bordo Roberto mentre chiacchieriamo. Sì. Vi porto a bordo così l'immagine si muove creiamo un po' di movimento. Esatto. Ok. Eh la barca. E fremono per vederla sopra ovviamente adesso vista la tua introduzione che ha fatto a colina. No. Faccio vedere alcuni particolari salendo a bordo quasi casualmente dei 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 plexiglass delle degli oblò della verniciatura della tuga però comunque adesso li riprendo. Vado verso prua così vi lascio un'immagine da prua verso verso poppa. Sì. Eccola qua. E continuo a parlarvi di questa barca che è una barca amata da un armatore che ci è stato dietro ci ha speso un sacco di soldini ma soprattutto ha voluto ha voluto mantenere la barca nel migliore dei modi affrontando i piccoli problemi dell'età eh man mano che si si presentavano. Per cui adesso la vediamo così in eh bella illuminata non come avrei voluto presentarvela perché deve ancora uscire dall'acqua per fare i soliti lavori di manutenzione annuali eh però già capiamo che si tratta di una bella barca. Il te che eh non è originale Roberto mentre tu parli ci sono un po' di domande inizio a rispondere random perché allora è ormeggiata a Monfalcone per quanti ce lo ce lo stanno chiedendo. Sì è Monfalcone. Arrivati dopo esatto Monfalcone. Sì. Eppure. Bene eh il te che lo vedete è in buone condizioni eh non è l'originale è stato rifatto nel tempo non saprei dirvi quando perché uno dei proprietari precedenti deve averlo rifatto. Io ho stimato che ci siano cinque sei millimetri ancora di te che non presenza problemi. Ok. Eh la tuga come vedete è bella lucida perché è stata riverniciata nel duemiladiciassette e successivamente anche l'opera morta lo scafo nel duemiladiciannove ha subito una riverniciatura totale. Perfetto. Quindi la barca si presenta in piedi veramente molto molto bene. Molto bene. Quindi con tuga riverniciata con scafo completamente riverniciato l'opera viva è a posto ogni anno viene trattata rimossa l'antivegetativa eh è data precedentemente applicata quella nuova. Perfetto. Un particolare che a me dico dico me in quanto mi classifico tra tra gli amanti del genere vintage è eh è da apprezzare è lo stato delle falchette. Le falchette le vediamo belle nere ricondizionate in modo ottimale. Normalmente barche di questo tipo si trovano sul mercato o in condizioni disastrate. Sì. O se recuperate comunque mantengono i segni del dell'usura in alcune parti. Tra queste le falchette che sono difficili da recuperare. In questo caso in questo caso sono veramente state recuperate in modo eh eccelso smontandole e portandole a recuperare e a riverniciare e rendono la barca ancora più aggiornata e è bella da vedersi. Ecco eh questi diciamo i lavori più eh Robi mentre fai una carrellata sul camminamento intanto. Sì 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 tu guidami perché io vado di cose generiche eh ecco un'altra particolarità tutti gli oblò sono stati ripresi quindi anche i plexiglass sostituiti le guardizioni sostituite così anche visto che siamo in zona Roberto io ogni tanto ti fermo perché così rispondiamo. Fallo fallo. Mi aiuti mi aiuti. Il Sartiame visto che ci chiedono di che età è il Sartiame il Sartiame sta è in tondino ed è stato sostituito nel 2020. Quindi è attualissimo è stato più o meno lo strallo di poppa che è di lo strallo di prua perdono che non necessitava ma tutto il resto è stato sostituito nel 2020. Esatto. Qui vediamo. Sono quei lavori che ti tocca poi fare su queste barche e non è non è da poco ecco. No assolutamente quello che è importante da rilevare è che i grossi centri di costo di una barca di questa età sono già stati affrontati per cui eh a volte si sta attenti a risparmiare due, tre, cinque mila euro sull'acquisto di una barca dello stesso modello senza considerare questo aspetto che quei cinque mila euro si moltiplicano per cinque nel momento in cui alcuni centri di costo non sono stati affrontati e poi mi trovo ad affrontare e e quanto mi sarà costata quella barca. Esatto. Alla fine. Ecco. Esatto. Non so se ho reso l'idea. Eh però ecco qui eh continuo a far vedere dei particolari vedete che la tua è molto bella e e così anche. Ti puoi avviare poi nel pozzetto così intanto ci facciamo un controcampo anche dal pozzetto la vediamo bene. Nel frattempo ci chiedono Roberto che vele ha in dotazione l'imbarcazione? Mi sembra che sono tante. Allora la barca ha eh una randa, ha due genoa, ha un fiocco olimpico, ha una sì e uno uno stile è un fiocco tre diciamo. Ok sì. Dopodiché abbiamo anche un gennaker con calza e il buon presso della Selden che forse avete visto. Sì. Mentre mentre davo un'immagine della barca nel suo insieme. Adesso arriviamo anche per quanti ci chiedono dei winch adesso arriviamo anche nel posto. Eh ecco discorso winch è molto interessante perché un paio di non questo proprietario ma il precedente ha fatto una sostituzione dei winch maggiorandoli. Sì. E elettrizzando due i due winch primari. Qui ne vediamo uno sul lato di sinistra e qui l'altro sul lato di dritta. Quindi abbiamo ben due. Quindi abbiamo due due elettrici di di buone dimensioni li vedete. Eh penso che in origine c'erano i winch su questa barca. Sì. Sono stati ehm perdono L'Humar. L'Humar sì. In Arken quindi abbiamo i quattro winch sotto l'albero. Tre winch sulla tuga e altri quattro winch in pozzetto per appunto fiocco gennaker o comunque buono anche per il secondo winch a poppa buono anche per gestire un ormeggio di poppa. Ecco. Ok. Eh se vuoi farmi altre domande. Sì. Allora mi chiedevano per la per la strumentazione. Ecco la strumentazione tutta B e G sostituita nel 2009 per cui non è quella originaria. La vediamo qui. Eh è già aggiornata. C'è un po' di riflesso perché a meno cosa riesco a fare. Sì sì ma sì. Ecco sono tutti B originari B e G originari mentre abbiamo un radar FURU1 mi sposto dietro il timone. Sì ok. Cercando di muovermi il meno possibile per non crearvi mal di mare. Dove abbiamo un un GPS cartografico della FURU1. Sì. Veramente molto grande che fa da multi assieme al al radar. Ok. Ok. quindi che completa la strumentazione. Abbiamo come Raymarine l'autopilota. Sì. Perfetto. Eccolo qua. Ok. Una bella bussola griffata Baltic. Anche questa è un bel pezzo. Sempre sì. Ecco. Tendi Tenderazzo e Vang e tesa base idraulici. Ok. Strumentazione quindi idraulica che è stata la mostro. Sì. Revisionata quest'anno. Lo scorso anno. Perdono. Per cui è tutto rivisto. Benissimo. Ok. Abbiamo anche una strumentazione ho visto all'albero. Abbiamo sì. I rinvii all'albero. Lo faccio vedere. Sono quattro. Sempre della B e G. Dopo mi avvicino magari senza farlo adesso appositamente per quelli. Ok. Sì anche perché piano poi ci avviamo all'interno. Sì. Vi voglio far vedere se riusciamo. In particolare del Tecris comunque. Esatto. Ha uno spessore interessante ancora e quindi che non mi fa pensare a dover affrontare un certo di costo importante come quello del rifacimento del Tec. Bravo. Tra l'altro appunto ce lo chiedevano e hai già anticipato diciamo una delle varie domande lo spessore del Tec quindi perfetto. Sì. Quindi vi faccio vedere ancora un attimo i ripetitori B e G all'albero. Sì. Eccoli qua che così da vicino li vediamo. Ok. L'albero è un albero a tre le crocette. Sì. Adesso cerco di se riusciamo. C'è molto sole ma comunque spero che si possa. Perfetto. Benissimo. Eccolo lì. c'è un albero. Molto bene. C'è il lazy jack e il lazy bag. Sì. E ci sono le sarti e volanti che non devono preoccupare. Ok. Allora adesso ve le faccio vedere. Eccole qua. abbiamo le salte e volanti. Abbiamo i bozzelli anche riparati dalla protezione in pelle. Altra chicchetta. Esatto. Tante chicche che su barche del genere. Insomma su un baltic ci stanno. Esatto. Allora le sarti e non si usano se a meno che non ci sia vento superiore ai 35 nodi. Certo. E con mare formato. Perché a quel punto con mare formato con tanto vento l'albero comincia a pompare. e chiaramente non avendo le crocette a quartierate. Chiaro. Perché a lei c'erano le crocette dritte come avete visto e posso farvi rivedere. Ha bisogno di questa unica attenzione. Ma insomma 35 nodi con mare formato non è una condizione quotidiana. Per cui cosa faccio delle volanti? Me le prendo. Me le sposto a livello delle sarti e le faccio sparire. Quindi non mi danno fastidio nelle strabate e nelle manovre. e quindi diventa una barca organizzabile come tutte le altre. Perfetto. Allora Roby io ti direi che possiamo scendere in coperta dopo questa meravigliosa carrellata degli esterni. Sì. Allora io mi avventuro. Vediamo questi super interni perché per me questi sono super interni di queste marche qui. Beh abituati a vedere quelli di nuova concezione. Nuova concezione. Esatto. E' un'altra storia. Eccoci qua. Allora siamo entrati. Il legno è vero Roberto. Il legno è vero. Eh questo è tech vero. Anche se volessimo fare una barca in tech oggi non avremmo questo tipo di tech. Esatto. Purtroppo. Esatto. Però insomma adesso al di là dei riflessi della luce che vedete che era quella a destra. Sì. Questo è il tavolo da carteggio con un altro furuno. Sì. Quindi c'è un doppio monitor interno e esterno. Sì. Poi abbiamo beh il VHF e il quadro elettrico. Ok. Roberto ti faccio una domanda che mi chiedono. Sì. Mi chiedono che motore monta il Baltic 43? Allora il Baltic 43 ha un Volvo Penta. Sì. 2003T da 43 cavalli. Ok. E' un motore che all'epoca veniva montato su questo tipo di barche. Sì. E tutti i 42 piedi. Beh io ho un 42 piedi dell'epoca e ho lo stesso motore. Motore che dico a 2300 giri consuma 2,3 litri ora. Sì. E quindi molto gestibile e che è un motore indistruttibile. Ecco basta farci quello che c'è da fare e continua a fare il suo lavoro. Nel 2014. Sì. Mentre state vedendo la bella dinette di questa barca. Maraviglio. Nel 2014 il motore è stato sbarcato e siccome non l'ha fatto questo proprietario ma l'ha fatto un proprietario precedente ha fatto tutto ciò che c'era da fare visto che è stato sbarcato ma non so dirvi cosa. Quindi non è il motore che e con ciò purtroppo si sono perse le ore originari. Ma per dire che non è il motore originario mai sbarcato ma è il motore seguito che continua a andar bene e in questi casi di solito finché va non ci si pensa ecco. Certo. Esatto. Tra l'altro segnalo che che me l'hanno chiesto la barca ha un'elica di prua che è stata ha un'elica di prua che sì esatto un'elica di prua che anche questo è raro trovare su questo tipo di barche perché di solito le mantengono originali però è molto comoda visto il vista la tipologia è che di solito una barca così viene condotta anche in equipaggio ridotto. Esatto. E questo è un bel must e ha un'elica tripale abbattibili come principale. Perfetto. Allora Roberto ci fai vedere un po cucina e cabine? Sì allora state vedendo la dinette quindi lo stato anche degli interni vedete che il tavolo è abbattibile esatto quindi abbiamo la possibilità anche di avere questa opzione allora io mi giro ma non posso non farvi vedere questi dettagli queste curvature dei masselli questi intarsi di questo armadietto scusatemi ma però non posso non resisto a questo la strumentazione oppure la protezione dell'albero incassato che è passante ovviamente tutta piena di curve oppure arrivo qui a questo armadietto che adesso vado a aprire che mi affascina ogni volta che salgo a bordo guardatelo come è costruito cercatemelo su una barca di produzione odierna anche di grande di di cartiere di noto o di qualità. Ok. Roberto un paio di domande che ti pongo che mi hanno mi hanno fatto cioè sono tantissime io cerco di rispondere a tutte poi comunque potrete direttamente Roberto nello nello specifico singolarmente mi chiedono se c'è un tavolo nel pozzetto c'è un tavolo nel pozzetto con le due lette apribili ok si prende sulla 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 struttura del timone perfetto ok e mi chiedono un'altra domanda è se la reazione interna della barca è idonea per zone mediterranee assolutamente sì ci sono aperture dappertutto ok e chiaramente una barca nordica capisco il tipo di domanda certo però eh sia la cabina di la cabina di poppa è ampiamente arieggiata con un gavone addirittura che si apre completamente oltre a avere degli oblonaterali e ogni cabina ogni bagno ha la sua aerazione ok poi diciamo che nella fattispecie qui nella zona di nette oltre a avere eh eh lo steriggio centrale abbiamo anche dei ventilatori che favoriscano la la circolazione dell'aria a bordo come anche nelle altre cabine quindi è tutto ben studiato c'è anche lo sappiamo il riscaldamento il vebasto sì esatto c'è un vebasto bravissimo esattamente sì sì adesso vediamo se si possono vedere le cabine sì sì adesso ci stiamo no 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 sì dai li facciamo vedere allora qui siamo in cabina e qui siamo in cucina ovviamente abbiamo un bel frigo anche questo nuovo ok abbiamo un bellissimo eh in cucina tre fuochi con forno sì e il doppio lavello su questo lato con eh sottospazio per la spazzatura ma importante interessante questa soluzione perché la cucina è ricavata nel punto della barca che ha meno oscillazione quindi in centro barca dove c'è il baricentro chiaro e quindi diventa molto molto eh comoda e non è difficoltoso lavorarci ecco assolutamente o fastidioso al di là di tutto con questa disposizione della cucina sì tu vedi che puoi appoggiarti da una parte con la schiena senza il pericolo di 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 sbilanciarti per per cucinare e quindi chi ha navigato chi ha navigato con mare sa che queste sono delle delle soluzioni ricercate assolutamente dopo tutte queste parole vado ad accontentare chi vuol vedere le cabine vado verso prua sì ok dove mi inserisco in questo corridoio da cui si è accesso a due cabine una sulla dritta ok che è colletti a castello esatto e la vediamo subito uno e uno due anche qui tutta con le doghe di legno laterali con i suoi bei armadietti intarsiati le condizioni spero si vedano che sono molto buone sì molto anche dei legni andiamo la cabina di prua che è una classica v ok questa questo modello usciva anche con la soluzione solo con la v di prua sì senza la cabina laterale per cui questo è una tre cabine interessante anche per questo molto più interessante di altri modelli come balti 43 esatto assolutamente adesso torno un po indietro per farvi vedere il bagno che si trova di fronte alla cabina doppia che vi ho fatto vedere all'epica castello apro la porta sì ed eccoci nel bagno che vi sto facendo vedere che è ampio e che serve appunto la cabina di prua quella di poppa adesso cerco di evitare riflessi ma no no ma vabbè ebbè roberto ci sta il sole c'è quindi quello non dipende da noi ok ok spero che per il bagno sia sufficiente ok quindi mi richiudo la porta eccoci qua mi chiedono nuovamente acqua e nera roberto la barca a a i serbatoi acqua e nera ok perfetto vado quindi adesso a verso la cabina di poppa che per me è la parte degli interni più interessante hai fatto bene infatti con questo layout cioè non so se si capisce io preferisco venire a dormire in barca perché effettivamente c'è una comodità con i due divanetti laterali che mi garantiscono tutto lo spazio del mondo oblò da tutte le parti apribili perché li vediamo qui sopra li vediamo laterali lì sì e qui sopra che adesso è chiuso cerco di farvelo vedere scusatemi ecco c'è un oblò completamente apribile non è un gavone completamente apribile dalla da dove si fa c'è il tambuccio dell'ingresso che viene può essere spalancato completamente per cui aria quanta ne vogliamo e adesso vedete penso l'accesso anche al bagno sì anche questo è molto grande con doccia esatto con grande specchio con un grande specchio che troviamo anche di fronte alla cabina esatto di poppa al al letto di poppa ecco e qui nella cabina di poppa faccio ancora un po' di particolari di armadi di armadietti per poter riporre cose ecco qui c'è il divanetto comodo per cambiarsi perfetto c'è come vi dicevo la reazione nel caso in cui nonostante tutte queste aperture si voglia far circolare l'acqua e l'aria perdono meglio di no meglio di no e qui e qui un altoparlante dello stereo che è presente in tutta la barca roberto tra l'altro se la barca ha un inverter ha un inverter ok e i materassi se sono originali o rifatti questo magari i materassi te lo dico per a mio avviso ce lo confermerà il proprietario ma ti dico per certo che sono rifatti perché dalla la sensazione non sono sfondati tanto breve ma sono di faremo poi fare un piccolo intervento sì certo minuti al proprietario insieme così spero spero ci sia perché aveva un po' di problemi di linea ma dovrebbe molto bene molto bene molto bene io corian o laminato roberto ancora io butto lì delle domande corian aspetta non so dirti sembra sembra laminato laminato sembra laminato esatto sembra laminato sì tutto il resto è legno e acciaio ok perfetto perché il resto è acciaio molto bene eh che bella barca roberto ogni tanto abbiamo anche delle barche no sto scherzando noi abbiamo solo belle barche però queste nella in particolare quando hai una barca fatta bene con delle belle linee eterne che c'è tanta qualità dentro ti viene anche il piacere assolutamente allora io ti direi se se vuoi sederti lì in dinette dove sei più con piacere rimetti la la telecamera verso di te così eh mi chiedono se non è troppo complicato visto che hai una mano sola vedere le sentine eh sennò io posso cercare di aprire se non è la diventa anche un po' complicato abbi pazienza provo a vedere quella che può interessare ai più che è quella dei prigionieri esatto della chiglia sì come qui c'è un sistema di apertura a domino adesso adesso vedo di aprirlo grazie perché ecco un'altra cosa da dire che i prigionieri della chiglia sono a vista e non sono resinati che molti non lo sanno ma in molte barche sono resinati non li puoi controllare qui invece hai la possibilità di vederli ben dimensionati e adesso vedo di fatti vedere prigionieri qua il blocco di questo è una delle sentine altra caratteristica se parliamo di qualità costruttive di sentine di cose di questo tipo arrivo subito nel frattempo appoggio sì è da dire che avendo l'albero passante sì queste barche entra sempre un po' d'acqua c'è niente da fare perché eh tra le per attraverso i tubi del drizzio e va a finire in eh in eh in un contenitore nella quale rimane di solito i contenitori di queste eh come chiamarli dei dei bicchieri ricavati nello stampo sono molto limitati e non riescono a contenere l'acqua sufficientemente eh esce se li ritrovi in giro per la barca questa no è molto profondo ok quindi non dà questo problema con la pompa di sentina poi si esaurisce l'acqua eh e ti rimane quel poco di acqua al limite o niente ma anche se non dovessi averlo fatto l'ultima con barca carenata l'acqua in giro per tutta la barca allora roberto ti direi mettiti di comodo in sto facendo adesso arrivo così fare questo di invertire il video e forse ci siamo io adesso ti metto in vista così ci vedono eccoci qua grazie innanzitutto grazie roberto è veramente grazie a te grazie a voi una super una super barca e io ne approfitterei eh se ha voglia di fare due parole eh fare intervenire un con un piccolo intervento solo voce il proprietario quindi piacere ci proviamo a mettere roberto buongiorno roberto ciao mi sentite tutti ti sentiamo forte chiaro grazie innanzitutto figurati figurati è un piacere eh no volevo solo rispondere visto che c'è stato un piccolo dubbio eh tutta la cucineria non solamente i materassi sì sono stati rifatti completamente tre anni tre quattro anni fa adesso insomma nel momento in cui l'ho comprata ok quindi materassi cuscineria fodera eccetera è tutto molto recente ecco da quel punto di vista certamente non è originale le roberto ti viene in mente qualcosa di roberto proprietario intendo ti viene in mente qualcosa da aggiungere eh che vorresti dire visto che veramente ci sono state un sacco di domande c'è tanta gente collegata un intervento breve su perché consiglieresti questa questa barca insomma qualcosa che ti venga in mente ecco direi due motivi principali almeno che a me hanno colpito molto nel momento in cui sono diventato armatore di questa barca sì il primo è la sensazione in conduzione perché non lo so se dipenda da chiglia da timone da dal circuito di ma il la sensazione di timonare questa barca non so io vengo un po da da fare da qualche regata così in amicizia però eh la sensazione del del portarla in particolare di bolino di lasco eh è veramente entusiasmante nel senso che senti il completo controllo eh dell'imbarcazione anche con piccoli movimenti del timone riesci a diciamo esercitare tutta la la insomma diciamo la direzionalità che cerchi no quindi da quel punto di vista non ho mai provato un'altra barca come questa devo dire certo e la secondo e il secondo aspetto è più come dire eh nei quando si arriva nei marina quando si arriva nel si ormeggia diciamo sui pontili noi navighiamo prevalentemente in Croazia quindi diciamo un luogo dove il charter ha grandissimo appeal ma non solo insomma è pieno di barche ecco il fatto che ci sia la fila di persone che vengono da un lato a complimentarsi e dall'altro incuriositi a sapere che tipo di barca è eh e i complimenti che si ricevono certamente da un come dire fa un minimo di 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 aiuto nello sforzo insomma di di essere armatore di essere no e devo dire che è una barca veramente oltretutto appunto gran molto valida in navigazione sì se se ovviamente paga qualcosina eh rispetto non so a barche più moderne quando è all'ancora rispetto agli spazi piuttosto che magari però eh ecco non c'è confronto invece quando si naviga quando si naviga secondo me eh anche dal punto sia dal punto della velocità ma soprattutto dal punto di vista della direzionabilità della barca io credo che anche una persona relativamente inesperta saprebbe portarla vele piene eh di lasco perché ti dà una sicurezza eh notevolissima certo una cosa che ti chiedono Roberto eh perché la vende? La domanda che fanno un po' quando si collegano i proprietari è una domanda che arriva quasi sempre perché la vende? La vendo perché vado in barca da quando ho cinque anni credo e ultimamente abbiamo vissuto questa barca due mesi e mezzo tre mesi all'anno in barca e purtroppo non sono più giovane e avrei voglia di fare anche qualcosa di diverso io ho passato tutta la vita diciamo a migliorare le mie barche a far sì di raggiungere questa barca alla fine rappresentato un sogno però oggi che ce l'ho dico che in effetti mi piacerebbe fare anche qualcosa d'altro eh in particolare io negli ultimi anni noi siamo stati veramente tantissimo in barca e quindi niente questo è il motivo diciamo non è tant'è comprovato dal fatto che dico in un certo senso stupidamente ma la barca oggi cioè è perfetta no rispetto a quando l'ho presa ci sono stati fatti degli interventi tantissimi nel corso di questi anni e anche diciamo piuttosto importante no sia dal punto di vista economico dal punto di vista strutturale già solo il fatto che abbia le sartie appena messe nuove e che l'avendo da significato che diciamo non è un atto premeditato ma insomma è un qualcosa che gli eventi l'hanno portata va bene senta roberto io la ringrazio molto la ringraziano anche gli utenti per la sua disponibilità sia per la barca che ha e per l'intervento che ha fatto ringrazio voi ringrazio tutti quelli che hanno avuto voglia e interesse a curiosare all'interno della barca e credo a questo punto di lasciare la parola a roberto all'altro roberto per per eventuali ulteriori domande comunque no nel senso che ho un po' di problemi di linea e temo che possa cadere per questo va bene no ma guardi è stato super gentile super disponibile grazie mille roberto grazie a voi grazie a voi grazie eccoci qua roby allora facciamo un un brevissimo riepilogo poi volevo rispondere una cosa dire una cosa roberto è così piacevole nella condizione di questa barca perché è un rapporto di riduzione del del timone molto basso e la confrontavano addirittura alla conduzione a barra di tipo a barra tanta sensibilità dava e questo è uno dei motivi oltretutto c'è la distribuzione dei pesi che è ottimale ricercatissima in chili abbiamo 3800 rotti chili quando ci sono 8700 chili su tutta la barca e quindi per chi per chi capisce qualcosa appunto di distribuzione dei pesi cosa che oggi eh non si vedono non si non di cui non si parlano non si parla più eh sono cose interessanti assolutamente chiusa parentesi no no guarda allora roberto eh ricordiamo solo l'ultima cosa ma non importante il prezzo di richiesta 138 mila euro corretto 138 è corretto roberto per per tutti quelli collegati sarà la persona che vi accompagnerà su questa barca e il il nostro riferente su trieste slovenia eh persona che direi come avete potuto intuire molto competente e amante di queste barche qui quindi eh la visita con lui sarà sarà un sogno per cui insomma chi chi volesse poi potrà scrivere a info chiocciola by hotting eh per incontrare Roberto a bordo di questo meraviglioso Baltic Roberto io ti ringrazio ti ringraziano tutti per la tua disponibilità la tua descrizione grazie a voi hai fatto veramente una bellissima visita grazie 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 a presto e buon lavoro ciao 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 a tutti arrivederci allora io vado a concludere quindi per chi fosse interessato ad organizzare una visita oppure ad opzionare questa imbarcazione prima di qualcun altro potrà scrivere a info chiocciola by hotting punto com e vi ci occuperemo di mettervi in contatto con Roberto per fare una visita dal vivo oppure per spiegarvi come fare per interozionare l'imbarcazione io intanto vi ringrazio per le vostre domande speriamo di aver risposto a tutti e alle tre e mezza quindi fra venti minuti quindici e trenta ci sarà una video diretta sul sano di sei quarantanove a Genova e ci vediamo tra poco buona giornata a dopo